Il Nasdaq e l'S&P 500 hanno perso il 10 e il 5% rispettivamente dai massimi storici di qualche settimana fa. Ma c'è invece un altro indice americano che se l'è passata molto meglio, facendo segnare un più 12% nel mese di luglio. In queste due ultime settimane infatti abbiamo assistito a delle anomalie statistiche molto interessanti e ad un cambio di rotta drastico della liquidità sui mercati finanziari. Ma c'è una spiegazione molto semplice dietro a tutto questo. Di cosa stiamo parlando? Lo scoprirai molto presto all'interno di questo video. Il contenuto di questo video non rappresenta in alcun modo consigli finanziari ed i ragionamenti fatti rappresentano semplicemente la nostra opinione personale. Un ritracciamento così consistente per quanto riguarda le Magnifiche 7 effettivamente non era mai successo nella storia. Parliamo quasi di 2 miliardi di dollari di capitalizzazione praticamente erosa in 10 giorni. 2,6 trilioni di dollari. Tra l'altro l'S&P 500 veniva da una striscia positiva di 356 giorni dove non chiudeva una giornata in negativo di oltre il 2%. Quindi anche qui siamo andati ben oltre quello che appunto era la statistica dell'ultimo anno. Quindi siamo andati veramente a pescare un qualcosa che era successo ben al di là nel tempo. E ovviamente non finisce qui perché vi sto facendo vedere proprio quello che ha scontato il mercato fino al Q1 2024. Quindi fino al primo trimestre 2024 che era praticamente una crescita fatta soltanto di utili, soltanto di aumento di fatturato per quanto riguarda ovviamente le Big Tech. Infatti l'istogramma di FactSec parla chiaro, in pratica lo vedete ci sono due istogrammi. Il blu è l'aumento anno su anno che si aspettavano gli analisti per le trimestrali delle sole Amazon, Google, Meta, Nvidia. E gli istogrammi invece in verde sono le 496 aziende dell'S&P 500 al di là di queste quattro. I numeri parlavano chiaro, quindi le magnifiche, in questo caso quattro, hanno mosso completamente il mercato e soprattutto hanno mosso quelle che sono state le aspettative fino all'inizio del 2024. Aspettative che poi, vedendo anche quelle che è stata la rotazione settoriale verso le small e le mid-cap, sia andata poi man mano a riequilibrare e poi diciamo a regolarizzare. Questa nuova narrativa ha fatto cambiare opinione agli operatori di mercato, che adesso invece stanno muovendo liquidità verso strumenti finanziari che permettono maggiori guadagni e prospettive di crescita. Ed infatti l'indice che più di tutti ha guadagnato da questa situazione è stato il Russell 2000, che ha segnato un 12% in sole due settimane. Il Russell 2000 infatti rappresenta le aziende americane a più bassa capitalizzazione di mercato e permette quindi agli investitori di puntare anche sulle piccole e medie aziende americane. Ma adesso vediamo nel dettaglio se questa salita è sana e soprattutto è sostenibile nel lungo periodo. Proprio perché da qui in avanti, diciamo dalla metà del 2024 e poi anche nel 2025, che lo faccio vedere da quest'altro grafico, vedremo poi anche utili in aumento proprio per quanto riguarda le small e soprattutto le mid-cap, che poi è un po' quello diciamo il fulcro. Poi il perché diciamo il mercato stia scontato e soprattutto gli analisti scontano un ritorno delle small e del mid-cap, questo è da vedere. Probabilmente all'interno già c'è anche il calcolo di un possibile taglio dei tassi di interesse, anzi più di un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed. E qualora ce non avvenisse, magari il mercato si andrebbe di nuovo a ridistribuire, ma questo ovviamente è un altro discorso. E ovviamente però dobbiamo un attimo capire se effettivamente la ripresa del Russell sia sana. E qui ci viene un po' in aiuto il forecaster, se andiamo a prendere il Russell 2000 nella schermata dei rankings, che cosa vediamo? Vediamo che per il forecaster, per l'analisi del fair value, il Russell 2000 non è affatto un caso che sia sopravvalutato di circa il 15%, quindi praticamente il movimento proprio che ha fatto durante il mese di luglio, a discapito invece di un Nasdaq che è sottovalutato invece di quasi il 5%. Quindi sono d'accordissimo che la risalita che abbiamo visto su Russell non è assolutamente sostenibile, è fatta sicuramente di eccessi, è fatta di una rotazione di una forse estrema liquidità, che era finita appunto sulle tech, che poi è riversata inesorabilmente sulle small e del mid-cap. Noi quindi riteniamo che nelle ultime due settimane il mercato abbia già scontato la crescita delle small e le mid-cap prevista nel prossimo anno, anno e mezzo. E che quindi siamo per l'ennesima volta davanti al classico comportamento dei mercati finanziari. Ossia stanno apprezzando già tutto, forse con troppo anticipo e forse con troppa euforia. Vediamo quindi dal punto di vista tecnico come sfruttare questa situazione, approfittando dei forti ribassi sul Nasdaq e dei forti rialzi sul Russell 2000, individuando anche dei livelli chiave da tenere altamente monitorati. Però facciamo attenzione perché grafico alla mano ci troviamo comunque su una soglia interessante, magari pure da iniziare ad andare a valutare delle operazioni un po' più speculative, magari per chi è un po' più aggressivo come trader, in ottica ribassista, non da livello attuale, però magari aspettando delle conferme operative. Conferme operative probabilmente attese a ribasso dopo la rottura del livello di 2200-2170 punti per quanto riguarda il Russell, e poi da lì effettivamente magari si potrebbe avere un ribasso un po' più significativo. Ti ricordo brevemente che è possibile fare trading sul Russell 2000 tramite il Broker Tribe. Se anche tu quindi vuoi approfittare della sopravvalutazione momentanea dell'indice Russell, tutto ciò che devi fare è aprire un conto di trading con tribe.com.it. Se hai bisogno di aiuto nell'apertura del conto, puoi contattarci direttamente su WhatsApp al numero che trovi qui sotto in descrizione. Così facendo ti aiuteremo passo passo dall'apertura del conto alla prima operazione in piattaforma. Mentre per quanto riguarda il Nasdaq, secondo me, almeno per il mio modesto parere, sta soffrendo un po' troppo rispetto al dovuto. Quindi questo meno 10% è sicuramente da recuperare e soprattutto perché dovrebbe ritestare almeno la zona di 19.700 punti, 19.630 punti, che poi è la zona di rottura di tutta quest'area rotazionale qui e soprattutto anche la zona di rottura di questa trend realzista che secondo me è un po' il fulcro, un po' la zona chiave dalla quale poi dovrebbero partire tutte le analisi sul Nasdaq. Quindi ricapitolando, almeno per quelli che sono i dati, per quello che soprattutto è il forecaster, Russell 2000 ampiamente sopravvalutato di circa il 15%, Nasdaq invece sottovalutato e andremo appunto a approfittare di questa euforia immotivata sui mercati per poi andare a comprare titoli che fino adesso hanno mosso il forte rialzo del Nasdaq. La tua opinione è importantissima, quindi vogliamo assolutamente sapere che cosa ne pensi di questa analisi. Perciò, mi raccomando, lascia un commento sotto al video. Inoltre ti ricordo che questo video è un estratto dall'ultimo webinar del lunedì, un appuntamento ricorrente settimanale totalmente gratuito nel quale trattiamo in diretta contenuti proprio come questo del video. Se vuoi partecipare al prossimo webinar del lunedì alle ore 18, trovi il link sempre qui sotto in descrizione dal quale potrai iscriverti. Se non potrai essere online in diretta insieme a noi, non preoccuparti perché riceverai comunque la registrazione il giorno successivo.